Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video come vi ho anticipato anche nel video delle novità della settimana riguardante tutta la nuova linea di abbigliamento che troviamo da giovedì 8 marzo quindi dal giorno della festa della donna da Lidl come sapete ve l'ho già anticipato, linea di abbigliamento Esmara in collaborazione come sempre con Heidi Klum è la terza, ce ne sono state già due e di entrambe trovate qui sul canale tantissimi video, anche i miei acquisti eccetera questa volta però ci tenevo a farvi un video un po' più approfondito in quanto ho avuto la possibilità grazie a Lidl Italia di provare in anteprima alcuni capi della collezione tra cui questa bellissima maglia che poi era quella che vi ho detto che puntavo, che volevo acquistare io praticamente e li farò vedere appunto indossati, di modo che posso dirvi bene anche qualcosa riguardante la vestibilità come mi sono trovata insomma con i primi lavaggi eccetera la nuova linea di abbigliamento prende il nome Let's Denim perché come potrete vedere ha tantissimi capi, capi in jeans soprattutto per le teenager infatti per questa volta non troviamo solo abbigliamento per donne ma anche per le ragazze questa è una cosa davvero molto molto carina che mi è piaciuta tantissimo soprattutto perché Lidl ha pensato anche alle più piccoline e devo dirvi che i prezzi sono davvero ottimi quindi partiamo subito dai prodotti per bambina abbiamo tre t-shirt a maniche corte da bambina prezzo 4,99 euro hanno la particolarità davvero di gran moda di avere la spalla scoperta e se riesco a trovare qualcosa io vorrei acquistare quella con scritto Power in quanto non mi dispiace assolutamente le t-shirt hanno una misura da 6 a 14 anni e un prezzo di 4,99 euro l'una come per le scorse edizioni anche per la parte young abbiamo i jeans super skinny naturalmente da bambina calzano sempre da 6 a 14 anni grigi, blu scuri o normale color jeans prezzo 11,99 euro e poi troviamo anche gli short in jeans da bambina naturalmente a 9,99 euro al pezzo e le misure sono sempre 6 a 14 anni ma la cosa che più mi premeva segnalarvi è assolutamente la salopette da bambina 11,99 euro anche questa con vari lavaggi e in tre colori e calza anche da 6 a 14 anni le scarpe da bambina 12,99 euro sono modello Converse All Star per capirci sneakers alte quindi sono quelle che arrivano alla caviglia misure da 31 a 36 le scarpe dell'abbigliamento Esmara calzano il proprio numero il numero che si ha normalmente se avete un 36 vi consiglio assolutamente di prenderli per noi grandi invece abbiamo un bel po' di capi di abbigliamento forse alcuni sono simili a quelli che abbiamo trovato anche le scorse volte iniziamo subito dalla t-shirt a righe in due tonalità o bianca e rossa o bianca e nera prezzo 4,99 euro ed è a righe orizzontali e veste dalla taglia XS alla taglia L sono tornati nuovamente i jeans super skinny da donna che sono molto molto simili a quelli da bambina hanno dei lavaggi diversi taglie dalla 36 alla 46 prezzo 12,99 euro camicia in jeans da donna qui abbiamo proprio l'effetto denim naturalmente sempre le stesse misure 36 e 46 prezzo 11,99 euro ho già provato tra le due camicie di jeans quella con lavaggio più chiaro e porto diciamo per la parte superiore una taglia ML e mi è stata inviata la taglia S e vi dico ragazze che questa camicia è proprio enorme ma secondo me non è una questione di tagli è proprio l'effetto della camicia stessa infatti anche nel video in cui Heidi Klum la indossa si vede che la porta svasata aperta magari con un qualcosa sotto magari una bella canottierina di pizzo maglietta da donna a poire a maniche corte prezzo 6,99 euro e le taglie sono dalla XS alla L sciarpa da donna ritroviamo più o meno le stesse sciarpe da donna della vecchia limited edition Esmara e sono disponibili in due colorazioni nera e blu prezzo 6,99 sneakers da donna allora abbiamo tre sneakers sembrano che sono praticamente identiche alle Converse All Star per capirci a 16,99 euro al paio e le misure disponibili sono dalla 37 alla 41 quindi quelle da bambine arrivavano fino alla 36 qui andiamo oltre naturalmente in tre colori nera, bianca e argentata io ho provato ve l'ho fatta vedere anche su Instagram la stickers nera e vi dico che è molto molto carina perché in dotazione trovate due lacci sia bianchi che quelli tutti colorati che sono davvero carinissimi e io che ho un 37 ho ricevuto appunto il 37 e mi va perfetto l'unica cosa che come sapete io le scarpe di solito non le acquisto da Lidl perché ho un problema ai piedi vi linko qui sopra il video non mi metto a fare lo spiegone in cui vi dico che cos'ho la novità sono sicuramente le calze da donna e sono dei calzini davvero carinissimi prezzo 1,99 euro ce ne sono due tipi un paio bellissimi quelli a righe e la fantasia di questi calzini a righe riprende molto la fantasia dei lacci delle sneakers che vi dicevo prima mentre il secondo paio di calzini è completamente nero con dei motivi colorati all'interno sono stati riproposti poi i giubbini da donna prezzo 16,99 euro e disponibile in tre colori nero glitterato e due neri tagli dalla 36 alla 46 ed infine il pezzo forte sono secondo me questi maglioncini qui che praticamente sono disponibili in quattro diverse fantasie e come vi dicevo anche prima sono delle imitazioni di marchi abbastanza top allora c'è quello grigio con scritto Monday che è praticamente il dupe come dico io di Alberta Ferretti della settimana questo che è l'imitazione di Gucci perché è quello tutto a righe orizzontali coloratissimo e poi altri due uno viola con scritto Happy e uno Fucsia con scritto Weekend prezzo 11,99 euro quindi ottimo e taglie dalla XS alla L io ho una ML sempre di sopra e mi è stato inviato una S appena l'ho visto ragazzi ho detto ma questo maglioncino è piccolo per me pure con mia madre stavamo vedendo non ti andrà e invece ragazzi la S è giusta è perfetta forse se l'avrei acquistato io avrei preso una M perché comunque tende a essere un po' cortino però ragazzi di qualità è buono e ho notato che sia questo che la camicia è in 100% cotone e questa cosa devo dirvi mi piace tantissimo perché comunque è bello traspirando con questo è tutto spero che questo video vi sia piaciuto io vi mando un bacio grande lasciatemi un bel pollice in su di supporto fatemi sapere cosa acquisterete voi con questa collezione secondo me è molto molto più carina anche rispetto a quella di Natale e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao ciao